L'altro giorno mi ha scritto Maria, una signora di 74 anni, vive in una zona periferica della nostra città vicino a Via Novara, ha due nipotini e cinque anni fa mi dice ho votato Giuliano Pisapia. In questi cinque anni ho chiesto una sola cosa al sindaco e ai suoi funzionari, di mettermi a posto quel giardino sotto casa dove devo portare e voglio portare i miei nipotini. Nessuna risposta. È una zona periferica di Milano, è una periferia, ma quella signora, come i tanti cittadini che abitano nelle periferie di Milano, non sono cittadini di serie B. Se ci spostiamo più in là nella nostra città in Corso Lodi, vediamo che cosa succede alle 8 di sera, alle 9 di sera. Un viale pedonale, riqualificato tanti anni fa, diventa il luogo dove si spaccia la droga, dove arrivano gli extracomunitari che si ubriacano e dove diventa impossibile dopo le 9 di sera vivere. Le periferie? La sicurezza. La sicurezza sono un diritto, è un diritto fondamentale per i cittadini. Non possiamo trascurarla, certamente si deve accogliere, ma dall'altra il Comune deve garantire ad ogni famiglia, ad ogni cittadino milanese il suo diritto elementare alla sicurezza. Milano Popolare scende in campo a fianco di Stefano Parisi per questo, perché la sicurezza sia un diritto insieme all'accoglienza e insieme alla riqualificazione delle periferie. Un'altra grande risorsa, un altro grande problema altrettanto della nostra città sono le tante famiglie che, avendo messo al mondo dei figli e lavorando, devono iscrivere il loro bambino ad un asilo nido. Purtroppo ancora nel 2016 ci sono lunghissime liste d'attesa. Noi dobbiamo dare ad ogni famiglia il diritto, qualunque scelta essa faccia, di poter iscrivere all'asilo nido il proprio figlio senza lunghe liste d'attesa e con un costo assolutamente accessibile. Famiglia, periferie, sicurezza. Tante sono le proposte e i progetti che abbiamo presentato al candidato sindaco Stefano Parisi, come Milano Popolare, dalla riqualificazione del Ponte della Ghisolfa, il vecchio simbolo della Milano Industriale che torna ad essere il nuovo simbolo della Milano del futuro. Una lunga, grande passeggiata pedonale che da Piazzale Lotto arriva alla riqualificazione dell'area dello Scalo Farini. Ecco, Milano Popolare è questa proposta politica, è la possibilità che la buona politica, al servizio dei propri cittadini, con fatti concreti, torni ad essere protagonista. Il cuore grande di Milano, che siete voi, deve tornare ad essere rappresentato in Consiglio Comunale. E questo è possibile con Milano Popolare. Il 5 giugno, non solo fai la tua croce su Stefano Parisi candidato sindaco, ma con la tua croce segna Milano Popolare, perché il cuore grande di Milano possa tornare ad essere rappresentato.